Le voci e le indiscrezioni raccolte dagli agenti di polizia erano fondate. Gli accertamenti messi in campo hanno permesso agli agenti di giungere infatti all'arresto di un 39enne di copertino che aveva allestito una vera e propria serra in casa per la coltivazione della marioana. Il controllo riguardato un'abitazione in località Torre Chianca. All'interno del cortile vi era una grossa fioriera con tre piantine di marioana, proseguendo poi nello stesso cortile in un'aiola altre due piante. La perquisizione degli agenti ha quindi interessato anche l'interno dell'abitazione dove è stato rinvenuto in una camera un grosso armadio di tela corredato di termoigrometro, ventilatore, faro e contenente sei vasi con piantine di cannabis indica a diversi stati di crescita e poi ancora nelle vicinanze tutta una serie di flaconi di fertilizzanti specifici e il necessario per la cura delle piantine. Insomma una vera e propria serra fai da te in cucina all'interno del congelatore del frigo invece è rinvenuto un sacchetto di cellofan trasparente contenente circa 16 grammi di marioana e nella stessa stanza all'interno del mobile tv sono stati rinvenuti due bilancini di precisioni e poi ancora hashish e altra marioana per un peso complessivo di circa 10 grammi. Tutto il materiale è stato sequestrato e gli indizi raccolti hanno portato all'arresto del giovane a cui sono stati concessi i domiciliari. Grazie. 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 Grazie.